D'accordo col PAM abbiamo quindi vietato dalle due e mezza fino all'orario di chiusura per ogni giorno di apertura del supermercato la vendita degli alcolici da asporto. Ecco la firma in mattinata dell'ordinanza urgente che vieta la vendita pomeridiana di alcolici nel supermercato di via Zorzetto, provvedimento che mira a contenere il degrado nell'area compresa tra Piazza Borsa, via Fiumicelli e i giardinetti di Sant'Andrea. Un ulteriore strumento a salva guardia del decoro di una zona molto importante della città, già avevamo fatto un'ordinanza che vietava e che vieta il consumo di alcol nei prati, nei parchi e nella zona antistante al PAM. Siamo andati a sanzionare, a cercare di regolamentare anche l'altra parte che è la vendita di alcolici a chi poi ne fa questo uso. Dalle 14.30 all'orario di chiusura divieto di vendere alcolici a chi acquisti solamente quelli che andrà a fare normalmente la spesa, la bottiglia potrà comprarla comunque. Abbiamo cercato anche ovviamente nell'ambito delle possibilità dateci dal decreto Minniti di fare un'ordinanza che funzioni, quindi è vietato l'acquisto di soli alcolici, mentre l'acquisto degli alcolici all'interno di una spesa normale è assolutamente consentito in qualsiasi ora del giorno. Ora l'ordinanza sarà notificata al direttore del PAM che lontano dalle telecamere allarga le braccia. Se non ci sono altre soluzioni accettiamo anche questo, si limita a commentare anche se avremmo preferito che aumentassero i controlli. Va da sé che il supermercato prevede un calo delle vendite.